Una categoria particolare di esseri viventi, ma è una tipologia così generica, ci possono essere parassiti più vari nelle varie specie. Diciamo che se forse ero a casa a guardare avrei dato la risposta sicura. Qui sinceramente ho qualche dubbio tra funghi e muffe. A me pare che siano delle muffe. Però, 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 non essendo del tutto certo di questa cosa, non evitare di fare delle figuracce magre, che sono magro ma non faccio figura, io direi che mi spareranno da casa, perché non si guarda più certo. E' meglio, quando non sei sicuri è meglio. Perché non riesco a muffe e funghi? Vediamo, o alghe o funghi. Vedi che l'ho usato bene, se no a casa non riesco. Dunque i lieviti sono? Dei funghi, vina. E valeva la pena, e valeva la pena. che ne sta rientrando con la muffa. Per fortuna, dai, però, nell'ottica di una scala di 90.600, non ci vuole. Adesso ti puoi dare a stare un attimo, perché io mostro la domanda a casa. Ci siamo, grazie. 47.300 con gli sms. 89.43.33 col fisso. Eccolo là. Se non euro oggi si gioca per un sacco di soldi. E con un euro se ne possono vincere addirittura 5.000. Dittemi dove ci sono Ridge e Rick. Ci sono in Terra Ribelle, in Beautiful, in General Hospital o in River. È talmente facile che vi dico che ci vediamo tra poco, col milionario. Allora, l'avete scritta, letterina Babbo Natale? su, su, su su vieni qua vieni qua su 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.